Tornata la pioggia e torna, come dire, la criticità sul territorio della città di Pescara. Una criticità che ormai, come consuetudine, si articola sia per quanto riguarda gli allagamenti, creando gravi disagi, soprattutto nella zona di Porta Nuova, anche nella zona di San Donato. Le case nelle arterie che confluiscono su via Tirino, cioè via San Donato, via Musone, sono invase dalle acque. Abbiamo ancora ulteriori allagamenti nell'area di Viale di Gasperi. Poi, perché non manchi nulla, c'è un ulteriore smottamento su strada Colle Renazzo, una piccola frana che interessa un abitato. Stiamo provvedendo anche a redigere, ad emanare una ordinanza per l'evacuazione di parte del fabbricato che potrebbe essere interessato da questo fenomeno franoso. Intanto ci sono uomini del Comune, della Polizia Municipale, un'impresa privata per arginare al meglio la situazione di emergenza. E poi c'è il fiume. Il fiume, dalle 4.50 di questa notte, sono scattati i semafori rossi e quindi le golene sono impraticabili. C'è solo da registrare al momento una leggera fuoriuscita del fiume dall'Alveo nella golena sud, quella verso Pescaravecchia. Però tutto nell'ordine di una situazione che viene tenuta costantemente sotto controllo. Una situazione che ancora una volta ci mette nelle condizioni di dover intervenire in emergenza per criticità arcinote che devono trovare assolutamente soluzione.